salve a tutti ragazzi io sono squall e bentornati su dead cell riprendiamo a dove ci siamo lasciati siamo di fronte alle fogne tossiche direi di entrare e morire malamente perché abbiamo uno sputo di vita non abbiamo un equipaggiamento decente abbiamo solamente una fiaschetta per poterci curare quindi la vedo alquanto tosta anche qua in queste fogne ci sta un boss da sconfiggere per ottenere un'altra runa simile a quella là che abbiamo ottenuto in precedenza nello scorso episodio e qua lui ci informa e tu vieni qui un attimo sei un po letto ma pare che capisci cosa sto dicendo ho perso una ru cioè la mia runa quindi vedi sono bloccato qui e avrei bisogno della mia runa ti dispiace trovarla per me guardi non si potrebbe fare oh grazie deve essere da qualche parte in queste fogne dal tuo lato delle sbarre riportamela subito e noi questa luna la prendiamo però non gliela riporteremo cioè ce la teniamo noi aia attenzione qua sono dosti teniamo noi sta luna e ci darà una grandissima mano permette di teletrasportarci attraverso delle statue allora qui qua possiamo salire stiamo attenti perché questa zona qua verde non è acqua di fogna ma è proprio veleno non so se acqua di fogna però è veleno quindi ci facciamo parecchio danno quindi stiamo attenti a dove andiamo scendiamo qua sotto aspettiamo che magari che lui arrivi e gli saltiamo in testa scriviamo scriviamo che questo può arrivare addosso attenzione allo scorpione non abbiamo un'arma decente questo è un grosso problema perché se avevamo un'arma decente sarebbe stato tutto molto più easy allora sotto ci stava qualcosa fa sopra invece non sembra che ci sia nulla di interessante quindi andiamo giù andiamo giù c'è un teletrasporto ci stanno altri nemici vabbè questi con l'arco sono abbastanza semplici da eliminare qua ci sta un verniciattolo che aiuto aia 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 già ci ha massacrato e attenzione che ora esplode proviamo su questo qua è facile da eliminare quindi ne approfittiamo anche per recuperare un attimino di salute non recuperiamo tantissimo però sempre qualcosina voglio assolutamente cambiare star ma io maledizia attenzione questo fa i salti aia siamo morti siamo morti siamo morti malissimo ok via 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 è tosto il verme abbiamo poca vita adesso cioè quella che avevamo recuperata l'abbiamo persa tutta e con gli interessi maledizione maledizione via curiamoci perché siamo morti non abbiamo altre cure quindi stiamo attenti maledetto maledetto odioso è davvero odioso sto verme che altro ci sta da queste parti niente da qua torniamo indietro quindi procediamo da questo lato speriamo di trovare qualche pergamena perché ci servirebbe effettivamente qualche pergamena per aumentare un attimino la nostra salute questa è una trappola è una trappola bruttissima andiamo su attenzione guarda questi facciamo così ok ottimo però un attimo qua preferisco eliminarmi questi prima ok e guarda questo ci serve quanto più vita possibile attualmente facciamo la bombetta attenzione 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 di nuovo siamo morti siamo morti il verme poi è velocissimo cioè dammi un attimo di tregua sì però se disattiamo in bocca non è il top tutti qua sono tutti qua magari appena si girano facciamo la bombetta attenzione devo congelare il verme facciamo fuori questo e scappiamo scappiamo abbiamo fatto un'azione da panico da panico però abbiamo poca vita un altro verme un altro verme sono tosti sti vermi ok è andata c'è qualcuno non c'è nessuno il problema è il boss di questa zona perché con la poca vita che abbiamo e che non possiamo nemmeno curarci non credo che riusciremo a batterlo ecco poi riusciremo a sbloccare ste cose con la runa che otteniamo qua dentro appelo 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 ok aia e niente ci ha massacrato abbiamo uno sputo di vita poi non troviamo nemmeno nulla per curarci tipo un kebab una coscia di pollo niente si trova niente maledetto ma questi poi da dove sono spuntati che prima non ci stavano ok qua non c'è nulla teletrasporto qua c'è una zona che non abbiamo esplorato quindi andiamo a vedere di qua e certo non l'abbiamo esplorata perché c'era tutta sta gente quindi nulla 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 è una zona chiusa e noi siamo morti io quasi questi me li schifo perché se no moriamo male che cosa c'è rimasto da controllare qua sopra vorrebbe di sì sì andiamo di qua un oggettino per curarmi magari cioè non sarebbe male qua abbiamo già visto sì qua già ci siamo stati quindi ok di qua troteletrasporto sbloccato maledizione al verme ok via 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 siamo morti male siamo morti male abbiamo perso 12 cellule maledizione anche questa volta tento di fare velocemente qua in questa zona così possiamo ottenere quanto più roba possibile ma è già cambiato nuovamente allora raccattiamoci qua le monete d'oro in qualsiasi modo lo guardi resta un luogo strano immagino che sarà un gran bello spettacolo quando tu e il collezionista avrete riempito tutti i barattoli guardi sì credo di sì ci stai lavorando vero? sì più o meno ovviamente ci stai lavorando come tutti gli altri guardi è che mi interessa poi più di tanto io voglio cercare di completare il gioco mi chiedo se riusciremo mai a completarlo qua ci possiamo cambiare d'abito giusto? infatti e meno male avvicinati non ti taglio te lo prometto sono il sarto grazie a me potrei indossare qualche abito degno di questo nome ho fatto un patto con un amico in comune il collezionista tu portali i modelli e io ti preparo il tutto ok ci cambiamo d'abito magari ci andiamo a mettere questo mi sembra abbastanza carino questo qua ok ci riprendiamo l'arco quella porta là sopra che gira non ho ancora capito come aprirla quindi la vedremo più in là via quindi con lo scudo di odio alquanto allora eliminiamo un po' di gente però cerchiamo di muoverci che comunque voglio andare a prendermi tutto in quella stanza maledetto un po' di kebab dai che recuperiamo un po' di salute dai che li facciamo fuori segreto scoperto quindi otteniamo delle monetine altro segreto attenzione qua continuano a massacrarci male il martello non mi piace è troppo lento fa sì danni ma è lentissimo non mi piace minimamente ok vedo l'ora di ottenere la frusta elettrica perché è devastante dove dovrei andare su già siamo al minuto andiamo sbrigarci a trovare una via di uscita fatemi trovare una via di uscita ok intanto ci prendiamo questa e aumentiamo la salute andiamo su dai 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 più veloce che manca poco guardi per il momento non ci voglio andare da questo lato no lo scudo no via 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 e scendi ok si prendiamocelo e ci può tornare utile siamo quasi al fine del tempo non abbiamo molto tempo a disposizione ancora non abbiamo trovato una via di uscita se supero i due minuti beh ci esploriamo la zona prima di andare da qualche parte ok abbiamo superato i due minuti ma a me ci possiamo esplorare tutta la zona perché non riusciremo comunque ad aprire la porta in tempo questi sono degli scudi che facciamo assolutamente nulla quindi continuiamo ad andare giù maledetto maledetto e ok a questo punto facciamo le cose con più calma eliminiamo tutti quanti sentiero dei condannati quindi magari poi ce ne torniamo qua nel sentiero dei condannati o magari andiamo nuovamente verso foglie rossiche non lo so non lo so guardi per il momento mi ha raccatto stavola visto che sta qua però non ci serve poi più di tanto non è un gran che quest'arma prendiamo un bellissimo baulozzo contenente un arco decisamente più forte del nostro quindi ok adesso dovremmo sparare più frecce giusto e infatti facciamo pure il fuoco devastante st'arco fatemi controllare che fa che non l'ho visto scocca tre frecce alla volta i colpi lasciano una scia di fiamme dietro di sé e 218 dps mica male mica male starco vabbè prendiamo il teletrasporto dove ci siamo lasciati qualche strada dietro di qua abbiamo fatto tutto quindi rimane sta zona di qua sembrerebbe no? è là sopra quindi andiamo a vedere sta zona di qua se riusciamo a fare qualcosa eravamo attivato però non eravamo saliti quindi saliamo adesso e che ci sta? parte delle monetine quella che non possiamo ancora attivare una porta un ordine un ordine con il sigilo del re casting questo è un ordine diretto che deve rimanere tramette non tenere più d'occhio gli ingressi alla prigione fino a nuovo ordine ok tutti questi documenti sono firmati da casting deve essere stato un alto ufficiale della prigione ci stava un po' di oro hanno immesso da parte qualche moneta per tempi duri dei libri alcuni libri su uno scaffale dirigere una prigione manuale di base costruzione di ponti ieri oggi e domani gestire soldati come ottenere loro rispetto senza ricorrere alla tortura addirittura sorvegliare gli accessi una prigione 10 lezioni la lezione 8 vi lascerà senza parole ma è tipo ma davvero ha studiato così tanto per diventare capo caccia di ora di qua abbiamo visto che non c'era niente però c'è l'altro lato facciamo una freccia così magari facciamo un po' di fiamme semmai aia però non male non male come attacco e niente niente facciamo così ok quindi muore per il via della bruciatura ai 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 che ci stava qua niente vabbè guardi a sto punto mi vado a eliminare pure quello muori male muori male andiamo su altro teletrasporto altra porta fogne tossiche passiamo per le fogne tossiche forse riusciamo a ottenere l'ampolla di livello 2 quindi potremmo curarci due volte quest'arco è abbastanza prepotente anche se sicuramente c'è di meglio ora non siamo arrivati in tempo ad aprire sta porta maledizione però dovremmo riuscire infatti quindi adesso possiamo curarci per ben due volte e quasi andrei a sbloccare poi la riserva d'oro di livello 2 mutazione come sempre ci prendiamo questa e proseguiamo qua recuperiamo tutto abbiamo uno sputo di vita abbiamo trovato solo una pergamena e questo potrebbe essere un problema ritorniamo nelle fogne tossiche vediamo se riusciamo a superare sta zona finalmente anche se con la poca vita che abbiamo dubito che riusciamo a fare qualcosa anche il boss stesso credo sia parecchio tosto da eliminare in queste condizioni non so se andare da quel lato o da questo lato guardi io ne approfitto visto che ho sto coso facciamo così guarda lo scorpione lo scorpione nascosto la stessa cosa io farei qua sotto e niente l'abbiamo lanciata male vabbè facciamo dopo intanto mi animo questo ok veniamoci anche a quest'altro qua non sembra che ci sia roba da raccattare quindi riusciamo a lanciare sta cosa e niente la lancia da sopra ecco adesso magari ce ne andiamo perché c'è pure lo scorpione facciamo così aia e niente non riesco a salire da qua guarda se quello non si gira lo riusciamo ad eliminare siamo avvelenati e subiamo un botto di danni apposto così ehm uh vabbè questi non dovrebbero farmi danno qua quindi apposto ok qua lo scorpione lo facciamo eliminare a lui sfruttiamo sta trappola sfruttiamo la trappola e inoltre abbiamo anche l'arco quindi sfruttiamo anche quest'arco e che cos'è non andiamo solamente di attacco primario possiamo fare più danno così a distanza senza rischiare la sfruttiamo no tanto le munizioni sono infinite cioè si ricaricano man mano che lo andiamo ad utilizzare ma tu guarda lo scorpione nascosto ok però io vorrei trovare qualche pergamena così da aumentare un pochettino la nostra aspettativa di vita che insomma non è propriamente il top adesso teletrasporto guarda questo che vabbè va bene così muori ok si può non esattamente non riusciamo ad andare da quel lato però possiamo andare da qua vabbè che non non facciamo nulla cioè possiamo semplicemente scendere quindi ok non so se c'è qualcosa da fare no possiamo andare qua sopra e lanciare questo magari tentiamo di subire dei danni per favore che dobbiamo restare con più salute possibile attenzione che attenzione quanto l'odio sto coso via 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 oh brucia che zona è questa scusate non l'ho mai vista si può passare no ok non si può passare va bene facciamo fuori questo un kebab ottimo via aia pensavo di averlo stunnato invece non l'ha stunnato per nulla via che qua ci massacra male questo questo cosa qua passiamo di sotto dallo scorpione questi qua con l'arco sono abbastanza deboli da gestire non sono un ranchier facciamo questo magari lo facciamo fare fuori quella cosa che è davvero odioso mi dimentico sempre che poi esplode rischiamo la pelle ogni volta andiamo giù questo con l'arco come detto è semplice da eliminare questi a pelo a pelo siamo riusciti a farli fuori perché esplodono grande abbiamo lanciato nel punto giusto ok guarda questo come si nasconde facciamo così eh potrebbe essere un problema però adesso non più abbiamo risolto la situazione ottimo di qua non so dove stiamo andando questo potrebbe essere talquanto problematico aia 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 dove siamo maledizione ci hanno tolto un botto di vita però finalmente abbiamo trovato una pergamena era ora questo che aumentiamo un pochettino la vita massima la salute massima via 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 ma se lo lancio qua questa colpisce no vero e l'arco no eh lo faccio così niente vero vabbè poco male poco male per modo di dire scusi ma questa cosa è alquanto inutile è alquanto in niente vabbè spariamo con l'arco facciamolo fuori così qua sopra già ci siamo stati prima non è la zona da dove siamo scesi sotto c'è la via d'uscita io vorrei trovare il boss della zona che non sembra essere nemmeno qua facciamo così scusa la runa che è sta cosa? ma è vista va bene non so che cosa sia ma attraversiamola buh quindi hai attraversato una faglia eh si eh dove sta scommetto che volesti portare quei tesori con te non è così si guardi sarebbe il top e beh se poi li prendi uscirne non sarà facile come entrare buona fortuna boh guardi io prendo tutto comunque in ogni caso tanto ormai ci siamo abituati prendiamo questo potenzia le tue statistiche quindi si abbiamo ottenuto una pergamena e questo è quello che diciamo ci dà un po' di salute in più e abbiamo ottenuto un progetto piede di corvo ok vedo delle trappole uh ma tu guarda non pensavo che scomparivano quei cosi ok uh via su giù che stiamo a fare non lo so trappole ma se mi passa così ahia e lo sapevo 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 non so come abbiamo fatto però devo adesso devo risalire là ok ma ci stanno le spine pure in acqua io come passo di qua cioè non so se ce la faccio con un salto ah ok erano con un tocco ok abbiamo poca salute però fatemi dare una curata dai non rischiamo così ahia tu guarda ok qua veloce perché queste cose scompaiono e niente e niente maledizione uh ce l'abbiamo fatta ma no che ci stanno questi qua ad aspettarci così malamente che cos'è sta cosa la pergamena ok questo questo guardi guardi facciamo così a posto però abbiamo ottenuto un botto di cellule abbiamo 31 cellule ora se moriamo male è un problema cerchiamo di non morire questa volta guarda guarda questo qua ci stanno delle armi granata di fanteria di livello 2 lanciatore di livello 2 guardi che mi prendo la granata se è migliore della mia si noi abbiamo quella di livello 1 quindi va bene non mi interessa non mi interessa assolutamente quella granata sarà qualcosina più utile magari soldi ce li spendiamo avere una granata non ne vale la pena di livello 4 abbiamo 9000 monete d'oro noi ce l'abbiamo di livello 1 quindi si prendiamolo e non abbiamo abbastanza soldi per comprare pure la trappola peccato però ci torna utile quello a pelo maledetti cosi esplosivi ma tu guarda ma ha saltato ma non vale aia ma può morire male guarda quelle esplosioni a pelo ci siamo salvati a pelo ok ok questo non lo riusciamo a fare fuori si in modo nell'altro ci siamo riusciti c'è altro che c'è uno scorpione che ci vuole attaccare a distanza là ci sta un'altra pergamena quella è di livello rip che è sto che mi ha attaccato ma che ma ma seri ma davvero ma veramente ma è tipo potentissimo schifando piazza una bomba meno 5 danni per 100 ricevuti che è lo stesso di quello e noi facciamo una tuba tossica guardi io mi tengo la tuba tossica che secondo me è più prepotente ok pergamena e direi di aumentare un pochettino tua vita e muori muori male muori cioè è stato tosto questo scorpione da buttare giù scorpione neanche era il verme non era lo scorpione finiamo di beccarci così male doppia balestra automatica guardi io faccio così adesso abbiamo uh ho dimenticato 1080 punti vita come vita massima però abbiamo poca vita di base attualmente quindi attenzione che qua ci sta un altro bello screen mio gigante con l'esplosione di ghiaccio l'esplosione di ghiaccio rallenta però quest'arco è prepotente cioè quest'arco è prepotente non lo so la spada però mi serve intanto è forte pure l'esplosione di ghiaccio guardi per il momento mi lascio quest'arco voglio trovare invece la frusta elettrica datemi la mia frusta elettrica che è devastante guarda posso mettere qua quegli scorpioni che si nascondono così e non lo manco più ecco in quel caso quello sarebbe tornato decisamente più utile stiamo stiamo trovando molto di progetti comunque guarda devono attaccare così ciò che non ti uccide che credo sia uno scudo qua possiamo fare qualcosa sì possiamo scendere ulteriormente ci stiamo lasciando un po' di strade dietro questo lo facciamo pure in questo modo maledetto vabbè questo è easy da buttare giù basta basta non lanciamo più frecce facciamo così cioè qua dentro quello che mi creerà più danni è sto vermetto maledetto che è devastante ok va bene siamo arrivati qua per non si sa proviamo a salire da queste parti io non so dove stiamo andando e qua ci siamo stati non so quando non so come ma ci siamo stati fatemi dare un'acchiata alla mappa non abbiamo visto quel punto di là quindi magari adesso ci andiamo in un modo o nell'altro vediamo di arrivarci ecco qua c'era il ghiaccio il ghiaccio però mamma mia se è utile sapete che vi dico io mi prendo il ghiaccio adesso poso l'arco e mi prendo il ghiaccio se fa così e congela tutti quelli davanti so che l'arco va molto più lontano fa molti più danni da fuoco ai nostri avversari però il fatto che li possiamo congelare secondo me è una grandissima mano d'aiuto lo facciamo così e più o meno cioè vedete non è male il ghiaccio il ghiaccio non è affatto male di qua ci siamo stati non ricordo noi saliamo no non ci siamo stati perché c'è una porta che noi bussiamo però risponde mai nessuno da queste porte il tuo teletrasporto e qua ci stanno i bastioni però io voglio trovare la runa visto che siamo qua in zona ok voglio trovare il boss che contiene la runa ormai se dobbiamo rischiare diciamo come si deve no attenzione qua ci sta una granata congelante di livello 2 e quasi quasi metterei questa onestamente che perlomeno congeliamo un po' di più qua non possiamo fare nulla quindi non c'è nient'altro da fare in questa zona allora il teletrasporto e vediamo dove possiamo andare so che in questo episodio magari stavo scendo un attivino più lungo ma ci possiamo fare di qua potremmo salire su di qua possiamo scendere forse possiamo scendere mi sembra una zona chiusa onestamente possiamo scendere anche da là quasi andrei a vedere questa parte è qua in fondo quindi scendiamo tutto da qua scendiamo di qua infatti qua non ci siamo ancora stati così magari le fogne tossiche poi non ce le facciamo più se riusciamo a trovare il boss e ad eliminarlo anche perché abbiamo adesso un po' di vita aia e niente volevo scendere giù e mi è salito su il problema è dove sta il boss qua noi già ci siamo stati si qua già ci siamo stati fatemi ricontrollare ok dobbiamo scendere comunque da qua ancora qua non possiamo però attenzione che qua adesso c'è il boss eccoli è qui la mia runa è a portata di mano no 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 che cosa no non preoccuparti hai fatto molta strada sono certo che la ritroverai presto allora vai è tosta però possiamo congelarla abbiamo quell'arma quindi possiamo farcela lanciamo immediatamente questo facciamo così congelalo congelalo ancora lancia un altro di questo continua a congelarlo fatta grande luna del teletrasporto questa luna permanente ti permette di usare i monoliti del teletrasporto oh tanta roba ok adesso possiamo sbloccare sta porta e andarcene dai bastioni non mi interessa esplorare altro abbiamo rischiato fin troppo andiamo verso i bastioni terminiamo il livello e ci salutiamo adesso io spero di trovare un'arma primaria più prepotente perché l'arma secondaria il ghiaccio va bene va bene perché avete visto ci ha dato una grandissima mano d'aiuto però l'arma primaria è alquanto debole ciò che ne abbiamo sbloccato anche un po' di roba il ghiaccio dell'assassino un colpo critico causa esaminamento che non so se è più forte dell'arma che abbiamo noi 5 cellule potremmo anche provare ma prima facciamo questo se abbiamo la riserva d'oro di livello 2 per fare questo dobbiamo sbloccare altri 6 oggetti e direi di iniziare a sbloccare sta roba che costa poco quindi sblocchiamo anche sti sandali e roba da 5 non ce n'è più allora fatemi controllare intanto starma si è decisamente più forte della nostra quindi va bene sandali no sono abbastanza deboli cos'altro possiamo sbloccare ricicla un'altra cosa utile doppia balestra automatica spara contemporaneamente a due nemici vicini ogni colpo infligge 60 ps di piedi non mi interessa poi più di tanto onestamente beh anche questo non è male i tuoi attacchi da mischia ti restituiscono una piccola parte di ps in base ai danni inflitti finché avrai un bonus velocità attivo quindi ci sblocchiamo questa adesso dai starma com'è sembra carina mutazione naturalmente questa qua ok ripristiniamo tutta la nostra salute e le nostre fiaschette andiamo su e direi che per questo episodio possa anche essere tutto nel prossimo ci dirigiamo verso i bastioni beh ragazzi io vi invito a iscrivervi al canale lasciare like commentare e condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti